Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro seguro personale sempre in caccia di succulante notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Ci avviciniamo a Natale e vi anticipo che settimana prossima ci sarà il grandissimo appuntamento con il Ficcanaso conclusivo di questo 2016, pieno di gossip ma soprattutto di figure di merda. Nell'attesa parliamo oggi di un'attrice molto amata, tanto per cambiare, che sta per tornare al cinema con un nuovo film. E forse la rivedremo anche in un colo salattesissimo. Andiamo con ordine, stiamo parlando di Keira Knightley, nostra pilatesa preferita e scheda. Keira Christina Knightley nasce a Londra il 26 marzo 1985, figlia di Will Knightley, attore teatrale e televisivo, e Charmaine MacDonald, paninara, no, sceneggetrice. Ha un fratello maggiore, Caleb, nato nel 1979. Il suo nome è di origine celtica e significa dai capelli scuri. Oh ma che eleganza, finalmente dei genitori artisti che non chiamano la Fia con qualche nome ridicolo. Tipo la Fia di Gwyneth Paltrow, Apple, Mela. No aspetta, fermi tutti. Mi dicono dalla regia che è una cappellonata. Infatti nel 2015 durante un'intervista al magazine Elle, Keira in realtà dichiara che in realtà il suo nome doveva essere Chiera. Chiera? Oh, Chi... Chiera. In onore di una fattinatrice rossa di cui suo padre era fan. Ma la madre commise un errore alla registrazione del suo nome alla nascita. E quindi Keira invece di Chiera. Ma fatti, ma chi era? Sì, secondo me la madre ha fatto apposta. Ma te pare che te muo mi fia gli devi dar nome della fattinatrice sexy che te piace a te? Ma che discorso è? Ma che sei impazzito? O è così oppure so, dei cafoni. Tipo quelli che chiamano il figlio Michael e a registrazione ci scrivono Michael. Keira comincia in tenera età ad avere interesse per la recitazione. A tre anni chiede a un agente come il regalo di compleanno. Ma che è uno scherzo? A nove anni esordisce nel film TV e Village Fair, a cui seguono altre numerose apparizioni. Apparizioni, tipo madonna. Fino a quando viene scelta per il ruolo di Sabé nel film Star Wars Episodio 1 La Minaccia Fantasma, grazie alla forte somiglianza con l'attrice protagonista Natalie Portman. Poi alcuni film piccoli come l'horror The Hole e la commedia Sognando Beckham la fanno diventare famosa almeno in Inghilterra. Nel 2003 il boom viene scelta per il ruolo di Elizabeth Swan nell'avventuroso La Maledizione della Prima Luna di Gore Verbinski, accanto a Johnny Depp e Orlando Bloom. Suo esordio hollywoodiano ed enorme successo commerciale che la rivela come una delle attrici più promettenti della sua generazione. Indicata da molti come la nuova Julia Roberts, Nah, nah, ha uno scia abbastanza denti secondo me. Kira recita successivamente in King Arthur, Love Actually e The Jacket. Nel 2015 la prima prova da protagonista assoluta che la afferma come importante star di Hollywood, in orgoglio e per giudizio di Joe Wright, tratto dall'omonimo romanzo di Jane Austen. Per questa interpretazione a soli vent'anni viene candidata sia al Golden Globe che agli Oscar. Altro grande film in arrivo, Espiazione, sempre diretta da Joe Wright, Trasposizione dell'omonimo bestseller di Ian McEwan. Il film apre la 64esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e le regala la seconda nomination ai Golden Globe della sua carriera. Tornerà a collaborare con il regista in Anna Karenina e dopo un paio di flop... Ah beh, succede anche ai migliori, dai! ...la partecipazione all'acclamato The Imitation Game, dove interpreta una crittologa accanto a Benedict Cumberbatch, cosa che le permette di ricevere la sua seconda nomination agli Oscar come migliore attrice non protagonista. A breve tornerà nelle sale con Collateral Beauty, comedia drammatica che la vede accanto ad un cast stellare, ovvero Will Smith, Edward Norton, Helen Mirren e Kate Winslet. Ma nella vita privata è fortunata come nella sua carriera? Dal 2003 al 2005 è stata fidanzata con quel cetriolone di Jamie Dornan, di cui abbiamo parlato proprio negli ultimi Ficcanaso. Tra l'altro è stata proprio lei a presentarlo al suo agente e quindi a farlo diventare celebre. Dal 2005 al 2010 invece è stata con Rupert Friend, uno degli attori di Homeland. Mamma mia che coppia dei maciati! Nel maggio 2012 si fidanzò ufficialmente con James Wrighton, d'asterista della rock band Klaxons. Il 4 maggio 2013 la coppia si è sposata nella proprietà di famiglia in Provenza in Francia. Ammazza stramegojoni! La coppia ha anche una figlia, Eddie, nata nel 2015. E tutti ci domandiamo, ma Eddie all'anagrafe avrà scritto giusto? In ogni caso preparatevi perché la nostra Keira probabilmente tornerà nel nuovo Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar, in uscita a maggio. Benissimo! A voi piace Keira? E la saga dei Pirati? Questo era tutto quello che voglio dirvi per oggi, grazie per aver visto questo video. Vi invito a passare sulla pagina di ScreenWeek.it per non perdere nessuna Cine News e di scaricare le app gratuite ScreenWeek TV e ScreenWeek Blog. Per non perdere i nostri contenuti, ovunque voi siate. Io sono Violetta e mi trovate su tutti i social e su YouTube come ViolettaRox, oppure su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti! Ciao! 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 Grazie a tutti.